Quali sono le tappe di Pechino Express concorrenti e dove vederlo in tv? Gli spettatori potranno godere dello show su Sky in streaming su Now TV e Sky Go. Inoltre, le puntate saranno disponibili on demand sui vari cataloghi digitali dell'emittente. Si tratta di uno show Sky original prodotto da Baniglia Italia, che promette di trascinare i telespettatori in un nuovo e appassionante viaggio attraverso alcuni dei posti più belli del pianeta. Le coppie in gara, per questa edizione, saranno Pechino Express 2023 promette di essere un'edizione senza precedenti, con un itinerario che toccherà l'India. Il Borneo Malese e la Cambogia, Costantino della Gerardesca e Enzo Miccio guideranno i concorrenti alla scoperta di luoghi magici come la giungla urbana di Mumbai e le Backwaters del Kerala. L'esperienza sarà unica, sia per gli appassionati di viaggi che per i fan di Pechino Express. Il viaggio porterà i concorrenti in posti stupendi, pieni di storia e cultura, in grado di offrire incredibili esperienze che rimarranno per sempre impresse nei loro cuori. Se siete pronti a partire, Pechino Express 2023 vi aspetta. Orice crezi, orice crezi, ține pentru tine, fii egoist, dar liniștit și eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, graffer-ul din Toto, toți MC-ul care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic avezi tu, am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vezi tu? Trebuie să depășesc plutonul cu fiecare text. Mafia para...